Noi siamo chiamati a fare qualunque sacrificio per aiutare i fratelli in sofferenza, altro che essere crudele, gettati dal balcone e non tornare più a casa. No, questo significa che non abbiamo più la coscienza, non la coscienza cristiana, non abbiamo più la coscienza umana, non ci sentiamo degni di essere chiamati uomini. Il cane ci rispetta di più, vuole essere accarezzato e vuole dare in faccia al padrone per vedere solo sorridere. Perché? Eppure è una bestia, è legata all'uomo. E noi preghiamo il Signore che ci aiuti a comprendere la nostra dignità di figli di Dio. Siamo figli di Dio e non bestioline e non carnefici. Siamo figli di Dio e invochiamo il Signore che ci aiuti e ci salvi.